L'incidente è verificato sì in una scuola primaria di Milano dove un bambino di sei anni è precipitato da un'altezza di 10 metri, sta scuotendo molto insegnanti, dirigenti e tutti gli operatori scolastici e ovviamente anche le famiglie. L'incidente ha fatto parlare ancora una volta del problema della sicurezza degli edifici scolastici, ma in questo caso c'è anche molta preoccupazione per i risvolti legali. Intanto va detto che secondo le prime risultanze dell'inchiesta la ringhiera della scala che il bambino ha scavalcato risulterebbe a norma e quindi non vi sarebbero responsabilità connesse con le norme sulla sicurezza. Neppure si può parlare forse di responsabilità dell'insegnante che ha lasciato uscire l'alunno dalla classe dal momento che, stando agli accertamenti degli investigatori, l'area antistante l'aula era presidiata da un collaboratore scolastico che aveva anche il compito di vigilare sugli alunni che usufruivano dei servizi igienici. Purtroppo l'alunno è sfuggito per pochissimi secondi al controllo della collaboratrice, si è diretto verso la ringhiera spingendo una sedia con rotelle e si è affacciato nel vuoto. Se la magistratura dovesse però disporre uno o più rinvii a giudizio nei confronti del personale docente o ata, si aprirebbe uno scenario davvero drammatico. Ma allora gli alunni vanno controllati a vista in ogni istante della loro permanenza a scuola? Un fatto è certo e ormai consolidato nella giurisprudenza. Quanto più gli alunni sono piccoli, tanto più deve essere elevata l'attenzione degli adulti. Un altro dato di cui tenere sempre conto sono anche le caratteristiche individuali dei diversi alunni. Ma ci sono anche altri elementi di contorno che non vanno trascurati. Nel caso specifico, per esempio, molti hanno osservato che forse il dirigente non è stato molto prudente a sistemare alunni di classe prima in aule del secondo piano. Questo è vero, ma non è detto che la responsabilità sia unicamente del dirigente scolastico. Per quanto ne sappiamo, è anche possibile che il dirigente abbia acquisito qualche parere degli organi collegiali, che in tal caso potrebbero essere considerati altrettanto responsabili. Quando nella scuola si votano pareri e proposte, infatti è sempre bene prestare un po' di attenzione e porsi qualche domanda sulle possibili conseguenze. Insomma, non è il caso di drammatizzare più del dovuto, ma bisogna essere consapevoli che anche le decisioni su problemi apparentemente di ordinaria amministrazione possono comportare rischi e responsabilità. Su questo tema, che certamente sta interessando molto il mondo della scuola e i nostri lettori in particolare, torneremo ancora nei prossimi giorni sia su questo canale sia sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate a leggerci, a seguirci e soprattutto a scriverci e a inviarci i vostri pareri, le vostre opinioni, i vostri suggerimenti. Grazie a tutti.